La strada di formaggi e dei sapori delle Dolomiti Bellunesi, Coldiretti e la Camera di Commercio di Treviso Belluno hanno portato a compimento una nuova edizione del concorso che vede protagonisti ogni anno le aziende del comparto lattiero caseario della nostra provincia. Questa rassegna è arrivata ormai alla quattordicesima edizione, quest'anno sono state 35 le aziende partecipanti con ben 57 formaggi. Le categorie sono 5, variano dal mezzano, al fresco, allo stagionato, al formaggio misto pecora e capra e sono momenti questi importanti proprio perché le aziende sono in grado di mettersi in concorrenza l'uno o l'altro magari anche scegliendo e provando e sperimentando prodotti nuovi, magari prodotti che sono sì tradizionali ma che vanno incontro anche a quelle che sono le esigenze del consumatore e dei clienti che ciascuno è in grado di soddisfare. Indubbiamente il formaggio, le latterie di montagna sono un valore aggiunto per il nostro territorio, sono quello che tra l'altro i turisti cercano, l'esperenzialità, il vivere, il mangiare bene e quindi non poteva essere che nella casa dell'economia, quindi la Camera di Commercio, ci sia la conclusione di questo concorso. La Camera di Commercio è sempre molto attenta alle realtà del territorio, promotrice di tutto ciò che vuole significare attraverso i prodotti l'identità. È nostro compito promuovere tutte le attività del territorio e soprattutto le eccellenze. La nostra provincia è molto importante per il turismo perché abbiamo grandissimi appuntamenti per la sua storia e di conseguenza dobbiamo valorizzare tutte quelle attività che portano turismo, che portano conoscenza della nostra realtà e soprattutto la montagna, la montagna che si sta spopolando e grazie a queste attività che rimangono gli operatori nel territorio e anche nuovi imprenditori perché proprio la tipologia di contatto di lavoro con la montagna, con la natura porta a far sì che i giovani apprezzino e vogliono affrontare un'avventura imprenditoriale. Ed ecco le aziende premiate. Lattebusche, le latterie di Valmorel, Sedico, Tiso e Lentiai, il centro caseario del Consiglio, l'azienda agricola Bortoluzzi di Alpago, la schirata di Valpiana, le malghe L'Aste di Roccapietore, Casera Razzo di Vigo, Celado di Arzie. Grazie a tutti.